Uno spettacolo? Eccezionale. Tre serate? Travolgente. Due conduttori? Affascinanti. Dei comici? Nagarrenti. Nagarrenti? Eh? Cosa vuol dire? Eh non lo so, c'è scritto lì, io devo solo dirlo. Ma tu dici cose senza sapere il significato? Forse la prima volta. Se ci fosse stato scritto bacio biso, cosa avresti fatto? Nagarrenti. Zellig, da giovedì prima serata, canale 5. Non c'era scritto con la lingua però, eh? Più che mai Nagarrenti.